Buonasera, ben ritrovati a Vite d'Atleta, ho il piacere di ospitare questa sera la pluricampionessa del mondo juniores del 2017 a cronometro e prova in linea Elena Pirrone. Elena, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie davvero per l'invito, davvero, allora parlavamo a microfoni spenti, due titoli del mondo juniores conseguiti ovviamente uno a pochi giorni di distanza uno dall'altra, che mondiale è indimenticabile e che colpaccio. Sì davvero, è stata una settimana davvero indimenticabile, mi sono riscattata da quello che è stato il primo infortunio ad aprile perché mi sono rotta la clavicola e piano piano mi sono rimessa in sella, mi sono rimessa in forma. E ottenendo appunto prima il titolo europeo e poi quello mondiale che è stata poi la ciliegina sulla torta di una stagione che mi è stata sorprendente. Era atteso, soprattutto poi dopo l'infortunio? Ci tenevo molto perché avevo tanta rabbia dentro di me perché è stata una stagione in cui non sono riuscita a esprimermi al massimo per via di questa caduta e quindi ci tenevo proprio a riscattarmi. Per quanto riguarda la cronometro avevo buone possibilità perché comunque ero la campionessa europea, la neo campionessa europea, quindi insomma un po' le aspettative ce le avevo. Ma di una vittoria insomma era un po' un dubbio perché non si sa mai. Certo è stata una bella soddisfazione. Elena era il mondiale dell'anno scorso abbiamo detto quindi la località era Bergen in Norvegia. Un bel tracciato nervoso se non ricordo male. Sì bello, era tutto molto mosso e la salita più lunga era di 4-5 chilometri e poi avevo questo lungo discesone fino almeno 3 chilometri dall'arrivo. Era tosto come percorso per la categoria juniores. A chi le dedicate quelle due medaglie d'oro? Ma in primis ai miei genitori perché mi seguono da quando ero piccolissima e oltre a me fanno anche loro sacrifici. Quindi a loro davvero devo tanto. E poi a tutte le persone che mi hanno seguito, alla nazionale che mi ha permesso di correre e soprattutto agli sponsor. Tuo padre che non è un signor sconosciuto nell'ambiente, tanto che, dimelo tu. Tanto che quest'anno entrerà anche nel direttivo del team Astana, la squadra in cui gareggio. Insomma è una bella cosa perché avercelo a fianco mi dà molta forza e molta serenità. Un papà che per seguire la passione della figlia e probabilmente anche la sua personale ha fondato pure una società ciclistica. Sì, lui aveva già una società amatoriale ancora prima che nascessi, quindi tanto devo fare. E poi quando ho iniziato a pedalare anch'io, un po' dalla spinta di altri genitori che avevano bambini della mia stessa età e anche un po' dalla mia spinta perché ci tenevo molto gareggiare nella squadra di papà. Era qualcosa che mi rendeva orgogliosa. Allora ho aperto la squadra anche per i più piccoli e da lì poi ho iniziato da 7 anni fino ai 18, sempre nella stessa squadra, con il mio gruppetto, con le mie amiche che tuttora sento e vedo. Elena, era inevitabile praticamente che tu facessi ciclismo, però in verità mi accennavi al microfono spenti che tu comunque eri bella convinta, bella gasata già da quando avevi 5 anni. Sì, sì, io ho sempre seguito le gare di mio papà e volevo, mi ha trasmesso lui questa passione, proprio vederli passare così veloci, così... Poi anche il dopogare erano sempre molto contenti, mi ha affascinato questo ambiente. Ho spinto già 5 anni, come dicevi, per gareggiare, solo che l'età minima è di 7 anni e quindi ho dovuto aspettare 2 anni prima di poter vestire una maglietta... Societaria. Sì, esatto. Sì, all'inizio ero un po' scettico mio papà perché diceva che il ciclismo era un po' uno sport per maschietti, e invece poi si è ricreduto perché a me piaceva un sacco, mi divertivo e poi ottenevo lo stesso risultato. Nell'immaginario collettivo è un po' così, il ciclismo è definito un po' uno sport da maschi, le femmine magari vengono relegate in secondo piano, ma invece probabilmente dall'interno non è così, anzi? In realtà non è così, infatti, magari 10 anni fa poteva esserlo perché comunque c'era molta differenza tra il ciclismo maschile e il ciclismo femminile, ma adesso piano piano stiamo prendendo sempre più piede, ci sono sempre più donne che si iscrivono, che utilizzano la bicicletta sia per passione che per far gare, quindi è un movimento che sta crescendo e non penso che sia uno sport maschile perché comunque ci sono atleti che mantengono benissimo la loro femminilità, quindi è uno sport neutro, possiamo definirlo così. Adesso che hai parlato di femminilità, vedo sempre durante i vari servizi televisivi che dedicano a voi ragazze, soprattutto durante i mondiali o le olimpiadi, che giustamente si concentrano anche appunto sull'aspetto femminile e puntualmente le unghie sono molto curate, ti sto guardando le tue, non è vero? Sono molto curate, ci tenete in particolar modo, forse perché essendo poi sempre sul manubrio sono quelle più una bella mostra? Quello sì, ma poi anche per mantenere la propria femminilità, per esempio mi viene in mente una biker che è Yolanda Neff, che tra l'altro fa anche gare su strada, che parte sempre con una collana di perle, o Annemiek Van Vleuten che anche lei sempre non rinuncia al trucco, o la Ferran Prevot che è francese che ha sempre anche lei gli orecchini di perla, quindi insomma ci tengono anche all'aspetto. Una Marianne Vos invece è un extraterrestre sotto tutti i punti di vista, oppure un po' di femminilità? No, anche lei ce l'ha, ovviamente quando si va alle gare magari si è un po' più concentrati per la gara stessa, però l'ho vista anche in varie occasioni con Elegante, è lo stesso femminile, ognuno ha la propria femminilità. Ladymerksing, Gonnella, ne è considerata, credo non abbiano tutti i torti, questo nome ha. Anche perché è un fenomeno, cioè è proprio fortissima. Qual è il suo punto di forza, credi Elena? Ne ha tanti, esatto, perché è sorprendente, cioè lei, mi ricordo una gara in Svezia, lei ha sorpreso, era un arrivo in volata, ha sorpreso tutti anticipando la curva, perché c'era una curva a 300 metri dall'arrivo e ci puoi dire che ha vinto in solitaria perché è arrivata con 100 metri di distacco, quindi vedere quell'arrivo lì è stata una cosa straordinaria. Elena, parlavamo prima del professionismo nel mondo femminile che sta diventando quasi a livello maschile, fortunatamente, tanto che tu ne sei testimone, la Stana ha deciso di fondare anche un team femminile e insomma questa la dice lunga. Sì, esatto, poi comunque come sedi sono diverse, possiamo dire due cose diverse, anche se in realtà i materiali e l'abbigliamento è lo stesso maschile e siamo lo stesso in contatto con la squadra maschile, quindi è un buon supporto anche per noi ragazze e poi anche nel 2020 tutte le squadre Pro Tour saranno obbligate ad avere la squadra anche femminile e quindi questo porta un gran vantaggio anche per il settore femminile. Sentiamo spesso parlare di Pro Tour, magari non tutti a casa capiscono la terminologia, ce la spieghi velocemente Elena? Praticamente sono le squadre più forti, quelle che possono fare determinate gare come ad esempio il Fiandre o strade bianche, insomma quelle più importanti. Per le donne poi c'è un calendario World Tour che è questa challenge, chiamiamola così, di gare delle classiche in cui poi a fine stagione viene premiata la capoclassifica che va in base ai punti che si ottengono in queste gare. Certo, hai parlato adesso, hai menzionato le grandi classiche del Nord, tu hai già avuto il piacere di parteciparvi? Io no, l'anno scorso è stato il mio primo anno da Elite e siccome avevo ancora la scuola mi sono concentrata maggiormente su quella e quest'anno però punterò a qualche gara del Nord sperando insomma di poterle fare tutte e niente, anche perché io l'ho sempre vista in tv e spero un giorno di poterle correre. Deve essere sì, un grande sogno per chi pratica del ciclismo perché è l'ambiente eccezionale, la gente della Belgio, Olanda vive lo sport, il ciclismo in maniera veramente viscerale e credo che sia. Sì, sì, è impressionante, quando mi è capitato di correre in Belgio quest'anno, ogni strada è piena di gente che guarda e che tifa indipendentemente dalla maglia ed è una cosa che fa venire davvero i brividi. Certo, hai avuto il grande piacere e l'hai onorato davvero al meglio quest'anno durante il mondiale di Innsbruck di indossare la maglia azzurra ma nella gara elite, insomma tu hai solo vent'anni e ti hanno catapultato tra le elite. Tra l'altro ti abbiamo visto per diversi chilometri in fuga, non ti sei fatta mancare nulla. No, esatto, il mondiale di quest'anno è stato uno dei più duri e anche parteciparvi è stato un qualcosa di non inaspettato perché ci ho lavorato per essere poi convocata, però insomma era un po' una cosa strana perché voglio dire un primo anno che va a un mondiale così duro non è una cosa da tutti i giorni. No, sono contenta della gara che ho fatto indipendentemente dal risultato che non è stato, insomma sono arrivata a cinquanta e seiesima però diciamo che già arrivare è stato qualcosa di importante perché appunto ripeto era uno dei mondiali più duri. Certo, ci ricordiamo per voi donne i rapporti di otto chilometri la salita? Otto chilometri più la salita che c'era all'interno delle case, del percorso cittadino e la salita dopo 50 chilometri che era alla media del 14% quindi è stato un attimo, però ho avuto un buon riscontro, mi sono difesa bene, sono appunto come hai detto tu andate in fuga con le più forti perché poi l'australiana che era nel gruppetto con noi è arrivata poi seconda. Quindi insomma è stata un'emozione anche perché poi passare sulla salita piena di gente, proprio c'era un corridoio di persone tu passavi in questo corridoio e ho avuto davvero i brividi perché è stata un'esperienza che fino adesso non ho avuto l'occasione di provare ed è stata davvero qualcosa di emozionante. Quando passate in mezzo a questa muraglia umana avete anche la percezione di quello che vi si dice oppure solo un continuo vociare, urlare, quello che sentite? No, si sente un sacco il tifo e dà una carica di adrenalina assurda, però sì, quando insomma io ero un po' anerdiata Fa strammata, fa strammata Esatto, però sì, si sente Da una carica incredibile Sì, poi quando ti chiamano per nome che dici oddio sanno chi sono e quindi è davvero, cioè ancora adesso mi vengono i brividi Ed è proprio, poi quando ho sentito anche, quando ero in fuga ho sentito che Tatiana che poi ha vinto il bronzo Era uscita dal gruppo e ci stava raggiungendo, lì ho detto meno male perché sono contenta A me ne è balsa per la causa della nazionale la tua super fuga No, esatto Ha contribuito Sì, 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 poi ho fatto come punto d'appoggio per lei per poi raggiungere quelle, le prime E no, è stato un qualcosa davvero che mi porterò sempre dentro e con un'emozione associata ad un'emozione grandissima E che gioia è stata infatti arrivare al traguardo e sapere che appunto la vostra capitana Tatiana Guderzo ha preso uno splendido bronzo Mi ha reso felice, come se l'avessi vinto io perché è stato, cioè alla fine abbiamo lavorato come una squadra Magari da fuori con la telecronaca e tutto quanto può essere sembrato che non sia stato così Però in realtà abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che c'era da fare E ottenere solo, tra virgolette, un bronzo mondiale è una cosa che comunque non capitava da un paio di anni No, beh certo, poi Tatiana se non sbaglio ha 34 anni, quindi ha un'esperienza incredibile ed è forse stata quella che l'ha permesso di ottenere questo risultato Esatto, poi anche per me che era il primo anno la sua esperienza è stata fondamentale perché lei capisce già subito le intenzioni delle avversarie E quindi anche in gruppo ti consiglia, ti dice guarda stai attenta, quindi è stata una spalla davvero fondamentale per questo mondiale Ricordami se potete usufruire delle auricolari durante un mondiale oppure no? Durante il mondiale non abbiamo usato le auricolari, no no Quindi non avevate nessun riferimento? No, esatto, infatti avevo le persone esterne che mi dicevano guarda che c'è Tatiana che sta arrivando Però abbiamo giocato di furbizia, chiamiamola così Abbiamo messo più persone lungo il percorso e loro potevano comunicare Quindi ogni volta che passavamo ci dicevano qualcosa, cosa fare, cosa non fare Quindi è stato, insomma eravamo controllate, dirette un po' lungo tutto il percorso Qual è stata della tua carriera, la gara che più ricordi con emozione, forse questa? Sì, dopo, sì No, forse il mondiale, scusami Sì, il mondiale, però il mondiale è assolutamente una grande cosa Però l'ho vissuto, cioè a parità di emozioni come è stato potrei dire anche il mondiale di Innsbruck Perché è stata, cioè finirlo, partecipare, tutto quanto, è stata una soddisfazione grandissima Poi anche ero vicino a casa, quindi soddisfazione doppia Ovviamente i due titoli mondiali me li ricorderò sempre Cioè saranno i miei primi titoli, le mie prime soddisfazioni E quindi me li porterò, saranno sempre al primo posto Però subito dopo c'è questo mondiale qui Dove ne tieni le tue maglie ridate? Una l'ho incorniciata insieme alle due medaglie e ce l'ho nel corridoio di casa Ti capita ancora naturalmente di pedalare con la tua maglia di campionessa del mondo? Eh, purtroppo no, perché non ho avuto il completino Non ho potuto gareggiare nessuna gara dopo il mondiale con il completino da campionessa del mondo E quindi mi accontento della maglia che è appesa Beh, non fai niente, ti rifarai con quella ridata da Elite Speriamo, speriamo Certo, vivi vicino a Bolzano? Esatto, sì, 8 chilometri più a sud di Bolzano che è il paesino Laives E niente, hai frequentato naturalmente l'istituto superiore, ci ricordi quale? Esatto, io ho frequentato il liceo scientifico sportivo Tognolo di Bolzano È una scuola valida, sì Sì, sì, molto Mi hanno aiutato un sacco per conciliare sport e studio Insomma, loro hanno un programma apposito per gli atleti E non ostacolano come fanno tante altre scuole Magari obbligando a fare ginnastica O magari quando si torna da, non so, da una trasferta Al giorno dopo interrogare gli alunni No, allora diciamo, quando sanno che hanno in mente un obiettivo ben preciso Ti lasciano in pace Certo, per modo di dire Beh, da quella scuola, se non ricordo male, è uscita anche una certa Tania Cagnotto Esatto Ma non solo, perché secondo me anche qualche sciatore famoso Oddio adesso non mi viene in mente Però so che ci sono tanti sciatori Sì, che forse era Anche Simone Giannelli che fa pallavolo Che è andato anche all'Olimpia Esatto Lui ha frequentato quella scuola lì Beh, è una bella fortuna insomma Esatto Perché in Italia purtroppo sappiamo che è un grande problema un po' degli sportivi E poi sta la scuola Io ho avuto la fortuna di poter frequentare questa scuola Che appunto era vicinissimo a casa mia Certo Che cosa fai nel tempo libero Elena? Sì, ce n'è di tempo libero nella vostra vita? Sì, diciamo che il tempo libero è poco Però mi piace un sacco leggere E stare con la mia famiglia Qualche genere in particolare di lettura? Ma io sono una ragazza molto romantica Quindi leggo molti tipo romanzi rosa, cose così Gli armoni dei vecchi tempi No, poi magari stare anche a fare qualche uscita con gli amici Ritrovarsi insomma Perché non sempre posso vederli Anche loro sono Tanti sono sportivi Quindi anche loro sono un po' in giro per il mondo Però quando ci si ritrova è sempre bello Ma quante settimane di riposo in un anno Più o meno hai nel calendario? Io sono fortunata che posso allenarmi a casa Quindi diciamo che per metà anno sono a casa Poi quando ci sono le gare Sono sempre le gare internazionali Quindi la maggior parte sono Olanda e Belgio E quando si parte si è sicuri che una settimana si va via Però in buona parte dell'anno sono a casa Ah dai questa è una fortuna Anche perché so che chi fa pista anche contemporaneamente praticamente è quasi sempre in trasferta Esatto soprattutto l'inverno in cui ci sono le coppe del mondo E lì loro sono Poi tra l'altro la pista non è come per me Che io casa praticamente posso allenarmi lì Certo E la pista invece c'era all'inizio Montichiari che è a Brescia E adesso invece sono obbligati ad allenarsi in Svizzera E quindi insomma anche lì sono trasferte di due o tre giorni Quindi sono impegnati tutto l'anno Pedali tutto l'anno oppure riesci a conciliare un'altra disciplina? Allora negli ultimi anni ho pedalato tutto l'anno Anche se qualche weekend me lo sono sempre ritagliato Per fare poi sci di fondo appunto Che è uno sport che mi piace un sacco E ho anche praticato quando ero più piccola Elena qual è stata invece la località più bella che hai visitato? Avete la possibilità di girare il mondo E questa è una grande fortuna C'è qualche città che ti è piaciuta particolarmente? Eh questa è una bella domanda Sono rimasta molto affascinata da Doha Quando sono andata ai mondiali nel 2016 Sempre da junior Ha questi palazzi enormi Le grattacieli E poi tra l'altro tutta una città artificiale Quindi mi ho un po' scioccato come cosa Poi Ma se mi paesi La Norvegia mi piace un sacco come località È molto pulita, molto ordinata Diciamo che mi piacciono un po' tutti i posti in cui vado Quindi sono Beh bene vuol dire che sei comunque aperta e ricettiva Esatto Poi mi piace perché è un'occasione Faccio ciò che amo E grazie a questo posso visitare il mondo Quindi è proprio qualcosa di bello Lingue parlate Certo anche perché altrimenti non si gira molto il mondo Eh sì Poi anche perché in squadra insomma abbiamo atleti Non sono tutte italiane Anzi quest'anno Sono nella Stama giustamente Esatto Quest'anno sarò l'unica italiana L'inglese è fondamentale anche per comunicare Con le altre atlete Magari in gara se succede qualcosa Oppure Ma anche solo tra atlete e direttore sportivi Perché tante volte un direttore sportivo Che è non so Faccio un esempio olandese Ha delle atlete che sono americane oppure italiane appunto E quindi l'unica lingua che Se l'atleta non conosce l'olandese Insomma l'inglese è la lingua più parlata Poi io in squadra ho praticamente Delle compagnie di squadra Sì kazake Che però parlano comunque l'italiano E poi delle compagnie cubane E messicane Quindi si parla più prevalentemente lo spagnolo Che l'italiano o l'inglese Quindi lo parli? Lo spagnolo? No diciamo che per fortuna Loro capiscono l'italiano Qualche parola la so dire Però faccio un po' di fatica Anche se è molto simile all'italiano Però posso dire che tante parole cambiano Quindi mi disoriento un po' Però loro per fortuna capiscono l'italiano Mi parlano lo spagnolo E io quello lo capisco Perché alla fine è simile Certo Beh è una bella cosina questa Anche per imparare più lingue E cavolo è una bella fortuna No infatti Ti sentiremo parlare il kazako Tra un paio d'anni Quello forse no Però Siamo ormai in conclusione Elena Una domanda è questa Che cosa vorresti nel tuo futuro? I tuoi obiettivi Il tuo studio nel cassetto Dove vorrai arrivare Elena Pirrona? Il mio sogno è quello di poter partecipare E ottenere qualche medaglia alle Olimpiadi Quello penso sia il sogno di qualsiasi bambino Ma poi crescere sotto il punto di vista atletico Poter ritornare ad alti livelli Come lo sono stata da junior E ottenere grandi soddisfazioni Non era l'ultima domanda Scusami Lanciamo un ultimo appello sulla sicurezza Sulle strade rispettate ai ciclisti Sì è fondamentale Perché comunque L'automobilista magari fa un lavoro Lavora da un'altra parte E noi lavoriamo per strada Quindi Il rispetto deve essere alla base Della sicurezza Di chi guida Alla fine noi occupiamo Un piccolo pezzo di strada Non occupiamo tutta la corsia Quindi non vedo il motivo perché Passarci così vicino ogni volta O suonarci Insomma Noi stiamo facendo il nostro lavoro Ed è importante L'abito umana Sì sarebbe Cosa buona e giusta Poter fare Avere una legge Che Insomma Che dica che È obbligatorio stare almeno un metro E mezzo dal ciclista Come so che già Stanno già lavorando Per ottenere questa legge E spero Verrà approvata All'estero è così? All'estero Sono un po' più organizzati Nel senso che C'è la strada Però fuori Sempre di là C'è Parallela a questa C'è una ciclabile Apposita Per le biciclette Quindi sono Fuori dal traffico E in sicurezza E poi il ciclismo È più praticato all'estero Come ad esempio in Olanda O in Norvegia Quasi tutti si muovono Con le biciclette Infatti è stato Quando sono andata in Olanda Ho visto Ogni città Sempre Un sacco di Di parcheggi Per le bici E tantissime persone Che si muovono Con questo mezzo È stato È bello E poi anche Economico Certo Salutare Esatto Esatto Sia per noi Che per l'ambiente E soprattutto per l'ambiente Hai ragione Grazie davvero Elena Pirroni Grazie a voi In bocca al lupo Ti seguiremo Grazie di cuore Crepi il lupo Grazie È tutto per questa sera Grazie per la cortesa attenzione Vi rimando a mercoledì prossimo Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti